Centro Tende di Paul Baratella. Tutto quello che desiderereste avere tra le vostre finestre e l'esterno. L'azienda opera da anni nel settore dei tendaggi con passione e professionalità. Si occupa di realizzazione, forniture e posa in opera di tende, tende da sole, tapparelle, tappezzerie in stoffa, plastica, pelle, tende alla veneziana e verticali, accessori per abbolgibili, frangisole, mantovane e ogni piccolo o grande accessorio collegato a questi prodotti. Il personale qualificato vi accoglierà e vi offrirà consulenza e preventivo gratuiti al fine di riuscire ad incontrare le vostre esigenze alla ricerca del prodotto migliore per la vostra casa. Centro Tende di Baratella utilizza sempre i migliori materiali per la realizzazione dei propri prodotti, potendo offrire così alla propria clientela la migliore qualità dell'acquisto. Presso Centro Tende troverete proprio tutto quello che stavate cercando. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS www.sottotitoli.com